Buongiorno da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina facebook, la nostra app di etv in primo piano alla tragedia sui binari nei pressi della stazione di Senigallia nella serata di ieri padre e figlio travolti e uccisi da un treno, l'ipotesi però che si fa largo in queste ore è quella che il figlio di 26 anni abbia voluto buttarsi e che il padre di 63 invece gli sia corso dietro nel tentativo. Inutile però di salvarlo. Padre e figlio, due turisti della provincia di Perugia in vacanza a Senigallia, travolti ieri sera da un treno merci in transito. La tragedia si è consumata attorno alle 21 all'altezza di via Goldoni nella zona nord della città. Da una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polferc, ha ascoltato alcuni testimoni, sembra che il padre stesse seguendo il figlio salito sulle rotaie proprio mentre il convoglio si stava avvicinando. Nel disperato tentativo di salvarlo è rimasto anche lui coinvolto. Per entrambi i turisti perugini che da tempo venivano in vacanza a Senigallia non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Sembra, ma dovranno accertarlo gli inquirenti, che il gesto del figlio fosse intenzionale e che il genitore, visto ciò che stava per fare, abbia messo a repentaglio la propria vita cercando di salvarlo. Una tragedia che si è consumata non lontano da diverse persone, turisti e senigalliesi che ancora si trovavano sul longomare. Il tratto di ferrovia dove è avvenuta la tragedia si trova infatti tra il lungomare Mameli e il tratto di Statale, che lì prende il nome di via Raffaello Sanzio. Il traffico ferroviario è stato sospeso, con disagi durati alcune ore sia per i treni dell'alta velocità che per i regionali, tutto bloccato in attesa degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco, che con il faro hanno permesso di illuminare la scena dell'investimento, consentendo di ricomporre le salme delle vittime. In un primo momento era stata allertata anche l'eliambulanza, ma ogni tentativo di salvare padre e figlio purtroppo è stato vano. L'impatto, come prevedibile, è stato fatale per entrambi. Gli inquirenti dovranno ricostruire i momenti precedenti l'investimento per capire che cosa abbia portato la più giovane vittima a compiere un gesto estremo di fronte allo sguardo del genitore, che ha preferito morire nell'unico disperato tentativo di salvarlo, però fallito. Sconvolto il macchinista, che se le viste piombare di fronte uno dopo l'altro, senza poter far nulla per evitare di travolgerli. Ancora cronaca e ancora un investimento, stavolta però pedonale ma allo stesso tempo mortale. È avvenuto nel pomeriggio di ieri a Fabriano, dove ad aver perso la vita è stata una donna di 62 anni. Il fatto in via a Don Minzoni attorno alle 17. La vittima, Stefania Stroppa, si trovava sul marciapiede quando per cause, ancora in fase di accertamento, una minicar le è piombata addosso. La donna purtroppo è stata centrata in pieno dalla piccola vettura riportando ferite gravissime sul posto. I sanitari del 118 che hanno immediatamente allertato l'eli soccorso da Torrette si è alzato in volo anche Icaro. La donna però è morta poco prima dell'arrivo dell'elicottero. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto sul luogo dell'incidente. Gli uomini della polizia locale per chiarire le cause del sinistro. News che trovate pubblicata anche sul nostro sito. Operazione dei carabinieri del comando di Ancona, sgominata la banda del Bancomat. Sentiamo. Furto aggravato, ricettazione, indebito, utilizzo e falsificazione di carte Bancomat. Sono i reati di cui sono ritenuti responsabili 14 cittadini rumeni con età compresa tra 29 e 59 anni che in mattinata sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona. Le indagini sono state condotte tra il settembre 2020 e il gennaio 2021 e hanno consentito di accertare che il sodalizio si era reso responsabile di ben 20 episodi delittuosi commessi nelle province di Ancona, Macerata e Fermo nelle Marche, ma anche Bologna, Rimini, Ferrara, Forlicesena, Chieti, Vivorno, Verona e Novara in danno di altrettante vittime e tutte persone. Con età compresa tra i 59 e gli 89 anni. Impressionante l'ammontare delle somme rubate, pari ad oltre 100.000 euro. Il gruppo criminale operava sempre con il medesimo modus operandi. Avvicinava le vittime mentre erano intente a compiere operazioni presso gli sportelli ATM, generalmente dell'istituto Unicredit. E senza farsi notare, riuscivano a carpire il codice di sblocco delle tessere. Subito dopo i malviventi attiravano l'attenzione dei malcapitati con un pretesto per appropriarsi del bancomat ed eseguire delle operazioni di prelievo di denaro contante, oppure per eseguire acquisti di costosi dispositivi elettronici come smartphone o tablet. Solo in un secondo momento le vittime realizzavano quanto era loro accaduto, cioè quando ricevevano le notifiche degli ingenti prelievi o dei pagamenti eseguiti con le loro carte bancomat. Un'anziana si è addirittura vista prosciugare interamente il proprio conto corrente. Attività investigativa, intercettazioni telefoniche, monitoraggio, pedinamento di numerosi autoveicoli, analisi delle celle telefoniche, visione di filmati della videosorveglianza, ha però permesso di smantellare il gruppo criminale, nonostante l'intensa mobilità sul territorio e nonostante i componenti adottassero diverse scamotage per non essere identificati. Oltre ai 14 arresti odierni, la compagnia dei carabinieri di Ancona nel mese di novembre 2020 aveva sottoposto a fermo di polizia nel comune di Roma altre tre persone, due uomini e una donna, sempre rumeni, anch'essi con precedenti. Cambiamo ora argomento, c'è un secondo caso di suicidio assistito anche nelle Marche, la commissione medica dell'Azur ha infatti dato il via libera per il farmaco da somministrare ad Antonio, un nome chiaramente di fantasia, per il suicidio medicalmente assistito. Antonio, 44enne marchigiano tetraplegico dal 2014, ha iniziato da tempo la sua battaglia per l'aiuto al suicidio affiancato dall'associazione Luca Coscioni, dopo il riconoscimento della presenza dei requisiti per accedere al suicidio assistito, così come stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso di J. Favo. Restava ancora mancante il parere sul tipo di farmaco e sulle modalità di assunzione. Antonio, il secondo italiano che potrà accedere legalmente al suicidio assistito in Italia, dopo Federico Mario Carboni, primo italiano autorizzato alla procedura e deceduto il 16 giugno scorso a Senigale. Inizia ora a predisporre ogni cosa, ha detto Antonio, al fine di procedere in tempi brevi con il suicidio assistito e si è detto contento anche di poterlo fare, avendo vicino l'affetto dei suoi cari. La pagina politica con le candidature all'interno del Partito Democratico e il dietrofront di Alessia Morani, che ha 24 ore dal rifiuto della candidatura per elezioni politiche in quanto in collocazione non gradita nelle liste per la Camera, nell'uninominale del Collegio di Pesaro e al terzo posto nel listino plurinominale, bene la deputata uscente con un post su Facebook ha scritto, ho ricevuto nelle ultime 24 ore una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. Sono francamente molto colpita dalla mobilitazione, non posso che rimanere indifferente all'appello che mi viene rivolto. Sono una che combatte, non si spaventa di fronte alle battaglie difficili, sono perciò a disposizione della nostra comunità politica. Ma adesso ci serve però un problema, in particolare nel listino plurinominale, in quanto quel posto sarebbe già passato a un candidato di più Europa. Chiudiamo parlando di come ci sia un fenomeno, quello della lettura, che in questo periodo dell'anno, quando si ha maggiore tempo libero, quando magari si è sotto l'ombrellone e ci si dedica al relax, diventa la lettura e i libri per l'appunto ottimi compagni di villeggiatura. Gialli, romantici, fantasy, digitali, cartacei, in un modo o nell'altro i libri ci accompagnano per tutta la nostra vita e non possono sicuramente mancare in uno dei posti che per antonomasia è il relax estivo. Sotto l'ombrellone, vicino alla crema solare, un po' di frutta fresca e tanta voglia di prendersi una pausa da tutto il resto. Che libro sta leggendo? Allora, Il mare dove non si tocca, di Fabio Genovesi. Perché proprio questa lettura sotto l'ombrellone? Perché ero leggero e mi piaceva un po' distrarmi. Che genere le piace leggere? I romanzi. D'estate legge un po' di più rispetto all'inverno? Sì, perché sono più impegnativa col lavoro, quindi d'estate in ferie e soprattutto leggo di più. Che libro sta leggendo? Harmony, non è pesante, si può leggere, parla d'amore che non è una cosa semplice adesso. Siamo a Palombina, presso lo stabilimento Sunset Beach. Qui la biblioteca comunale, ben in casa di Ancona, offre un servizio che si chiama Libri da Mare. Il servizio che pensate è nato 25 anni fa come uno dei primi esperimenti di biblioteca sulla spiaggia. I libri presenti sono di qualsiasi tipo, dai bambini ai gialli, i romanzi, le narrative, qualsiasi tipo. La lettura estiva secondo me dà più tempo di poter cambiare anche tipo di argomento. Mentre magari l'inverno uno segue di più gli autori preferiti, l'estate si diverte anche a cambiare, a provare. Stiamo dando anche consigli perché tanti autori li conosciamo e chi magari non conosce sta provando anche autori nuovi. Poi magari il libro piace di più, piace di meno, però intanto hanno cambiato anche il genere, hanno provato a leggere qualcos'altro. Oltre al servizio di prestito, la Bene in Casa ha proprio organizzato anche iniziative in spiaggia riguardanti libri? Assolutissimamente sì. È rivolta ai bambini con un gruppo di volontari, di Nati per Leggere, che hanno passato qui del pomeriggio e anche delle mattine a disposizione dei bimbi, leggendo loro i libri quali erano interessati. In questi due anni, dove tutto si è fermato per via del Covid, era una richiesta fatta da tutti gli ospiti qui di Palombina, perché è stata veramente un'iniziativa che è mancata tantissimo e siamo tutti molto felici che sia potuta ricominciare. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto però le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie dunque per l'attenzione, l'augurio ed una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.